Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il cinema ha raccontato la ricostruzione dell'Europa, mentre i nostri padri si rimboccavano le maniche per rimettere in piedi un continente messo in ginocchio dall'odio e dalla devastazione. Il cinema ci ha accompagnato, ci ha aiutato a ritrovare la nostra anima, quella della libertà, della solidarietà tra uomini e nazioni. Le vite e le azioni di uomini e donne come Simone Weil, De Gaspri, Adenauer, Schumann, Delors, Mitterrand e Cole sono state anche accompagnate dai capolavori di registi come Rossellini, De Sica, Godard, Truffaut, Cavani, Fassbinder, Looch, Bergman e molti altri. Il premio Lux istituito dal Parlamento europeo vuole essere proprio un riconoscimento al cinema di qualità, ma soprattutto il riconoscimento del ruolo fondamentale della cultura nella formazione della nostra identità, dell'identità europea. Vuole essere anche l'incoraggiamento però a tanti giovani che si avvicinano al mondo del cinema ad andare avanti, a non mollare, a resistere, perché l'Europa li sostiene, perché alle loro spalle c'è una storia e davanti a loro c'è un futuro, quello di un'Europa sempre più unita, libera, solidale. Benvenuti al premio Lux 2019, congratulazioni e auguri a tutti i partecipanti, l'Europa ha certamente bisogno e fiducia in voi.